Ho bisogno di concettualizzare le mie opere d'arte, le mie opere, perché comunque ritengo che un'opera abbia due cose sostanzialmente, una forma con la quale arriva in maniera visiva allo spettatore, al fruitore, e un concetto, un concetto che io, nella fattispecie, voglio esprimere. E non posso fare a meno di esprimere il concetto, cioè diciamo che se non avessi un'idea, un qualcosa da dire, eviterei di dirlo, attraverso il disegno intendo, perché di questo mi occupo negli ultimi anni. Spesso i miei lavori, infatti, hanno come concetto qualcosa che riguarda i miei umori sotterranei, che poi possono essere condivisibili con la maggior parte delle persone, credo. Quindi ci si trova di fronte anche, qualche volta, a una sorta di specchio, di un riconoscimento. Ecco, non potrei fare a meno di esprimere un concetto, la forma non basta da sola, altrimenti sarebbero mere rappresentazioni della realtà. Invece no, non mi basta.